Hey, this is Monish King, yo, are you ready? I am walking down my road and sleeping with us Cristian Ferrara, dopo il terzo posto al campionato italiano di Ostia, è pronto a salire di nuovo sul parquet gommato internazionale. Ad attendere l'Irpino ci sarà la Serie A di Istanbul dal 17 al 19 maggio. Alla gara, come accade in determinati circuiti, si metteranno in gioco i migliori atleti del mondo per guadagnare punteggio in vista di Tokyo 2020. Il karate cavellinese, salito al 78esimo posto nella classifica mondiale, cercherà di conquistare le fasi finali del torneo e, perché no, tentare la prodo nei primi tre posti. Un risultato difficile da ottenere, ma di certo non impossibile. Il giovane lupo, abituato tutti a grandi prestazioni e l'essere sempre il più piccolo della categoria, ha portato gli avversari a sottovalutarlo, rischiando, e non poco, di perdere i match. L'atleta, nonostante il campionato romano sia finito da tre settimane, non ha mai smesso di allenarsi, alternando tecnica e atletica sei ore al giorno per quattro giorni alla settimana. E nonostante le sedute diventino sempre più dure e frequenti, non si è mai arreso, anzi, ha sempre cercato di superare i propri limiti. Sous-titrage ST' 501